Musica Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale Oggi il nuovo video, videoblog Oggi è il 29 gennaio Farò blog su blog Sto editando il blog del 26 gennaio e 27 gennaio I due giorni insieme Che ho fatto Quindi vedete prima quello Che il 29 gennaio Già c'è Il videoblog Il 29 gennaio Questo lo vedrete più in là Questo blog Quindi prima di iniziare il blog Vi invito ad iscrivervi al mio canale Attivare la campanellina per non perdervi i video Commentate e mettete tanti tanti like E spero che il video vi piaccia Questa tipologia Eccomi qui Allora, come stavo dicendo Sto editando il vlog Ecco Quello che è quello che mangio stasera Mi riprendo un po' E poi domani Se mai dopo le domani Vediamo Non lo so Che domani a pranzo Anche è libera E domani sera No Quindi vi faccio Insomma Vedere quello che faccio E niente Io non vi ho fatto mai vedere Scusatemi il letto Non vi ho fatto mai vedere Quello che ho Questo Questo qui Che è il mio iPad Apple Delle Apple iPad AR1 Non mi ricordo E' ricondizionato Vi faccio vedere Eccolo Aspettate Allora Se va Aspettate Perché se no Eccolo Comunque sono le 16 e 10 C'è le 4 e 10 Di pomeriggio Comunque È ricondizionato L'ho comprato Su Amazon A 150 euro Eccolo Poi mi ha fatto vedere Nel vlog scorso Che mi sono comprata Anche Come si chiama Il treppiedi Però non è quello Professionale L'ho pagato 10 euro L'ho trovato Dai cinesi Quindi non è proprio Quello Professionale Professionale Quindi Sto parlando Anche tantino Ora vi faccio vedere Il vlog Che sto montando Per Ecco Era in questione Questo vlog Qui Ma non riuscite a vederlo Ecco Ci sono tante cose Da Mondare Quindi è meglio Che non vi spoiler Troppo Il video Vlog Ma già lo trovate Online Questo vlog Qui che sto editando Del 26 Del 26 Il 27 Gennaio Quindi Mi raccomando Andatela a vedere Baci A dopo Eccomi qui raga Ho finito di Ditarli Ho Asportato Il video Allora Ora Lo programmo Su YouTube Allora Vediamo Si è andato Allora Aspettate un attimo Allora Come avevo Come avevo messo Scusatemi No vabbè Quando sono Allora Vediamo un pochettino Un attimo Ok Grazie Aspettate un attimo Che devo Mettere questo A salvare Su desktop Incolla Ok Desktop Incolla Ecco Ho incollato Su desktop Vediamo se ci sta Questo Vlog Vediamo un attimo Solano Solo tu Mi penserai Vogliami Scusatemi Un po' Troppo Incare Qui sopra Allora Dov'era? Già mi sono Dimenticata Dov'era Allora Forse Scusatemi Vediamo un attimo Non so Come si è salvato Vediamo se Vlog Vediamo un po' E vi farò sapere Eccomi qui Ragazzi Sono Uscita Scusatemi Scusatemi Ma è un po' Sporchetta L'acqua Allora Sono qui a Prignano Io abito Io abito Aderevita E niente Vado Tra poco Vado a Prendere L'acqua Non posso Sporchere Tanto Perché c'è la Targa Dietro C'è un Forgone Con la Targa E non Posso E niente Mi faccio Un Giretto Cioè Mamma Fa Un Freddo Cane Non so Se si può Dire Questa Barula Però Fa Freddo Non so Quanti gradi Siamo Sono in Macchina Sono qui In Macchina E niente Ora faccio Un giuletto Ecco Qui Sono I 10 Di Sera Sono qui In Oletto Prima Avete Sostato La Cena Il Sabato Sera Il Sabato Sera Lo Libero Come Cena Anche La Domenica Pranzo Libero Quindi Avete Stasera Non c'è La Vista Sera Comunque Si Sono Già Un Letto No Sento Vado Sento 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 Io Come Vedete C'è Light Light E ora Mi Tocca Getter In Le Nero E Niente Quindi Questo Guardando Questo Vado Vado La Tazza Ci Andiamo Più Tardi Ci Vediamo Domani Vettempo Siamo Buongiorno Allora Non vi Ho Fatto Vedere La Mia Colazione Un Giugno Sera Non vi Ho Fatto Vedere Più Niente Stamattina Non vi Fatto Vedere La Colazione Ma vi Faccio Vedere Il Pranzo Di Oggi Perché Sono Stamattina Dai Minogno Ora Esco Mi Riprendo Un po' Insomma Non dove vado Ma vi Prendo Più o Meno La strada La cosa Se vi può Interessare Ora sono qui Accontata Sul letto Scusate Se Vedete Questa Penso Che Questa Già L'avete Vista Nell' Lull Di Shane Che vi Ho Fatto Vedere Comunque Sono belle Queste unghie Però Molte Distaccano Perché Ho Messo L'Attack E Niente Yeah Tra poco Esco Vi Faccio Insomma Volevo giocare Un po' Con Questo Quello Che Vedete Sempre Che avete Visto Nell'ultimo Vlog Qui Spero Che Avete Visto Il Mio Vlog Che ho messo Già Quello Due Giorni In Mi Faccio Quindi Qui Il Titolino Allora Vi Dico Subit E Speri Il Vlog L'avete Visto Quello Due Giorni Con Mary Vlog 26 27 Giugnaio Mi Accomando Andatelo A Vedere Quindi Fra poco Vi faccio Vedere Dove Vedo Però Non vi Faccio Vedere Dove Né in Casa Niente Ciò E niente Ho sonno Però Ce la Faccio Invece Per dire Un poco Ecco qui Scasatemi Se non Non mi So Fatta Sentire Oggi Ma Già È sera Sono 15 Ricordo E Sono Uscita Infatti Ve l'ho Detto Se non Ricordo Perché Mi Scucciano E Vero 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 Mamma Pinchiamino E Sto Giocando In questo Proprio Sul Gioco Pirabide Solitaria Saga Già L'ho Fatto Vero Sui Sita Comunse Non so Se riesco A riprendere Le mani Penso Di sì Qualche Cosina Qualche Piatto Che vi Devo Mangiare Romani L'ho Fatto Vero Quello Di Scricciata Non so Sì Vero Perché L'ho Mangiato Chissà Chissà Zero Perché Ho Mangiato Pesante Oggi Sì 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 Togliamo Di Mere Poi Per cui Poi 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 Sì Sì, e quindi, niente, sto a vedere quello, ma non mi devo buttare questo, e qui, e qui, e sto a chiudere, perché quelle sono le cose dove io faccio le linghe e le cose che resti, e... i costantini, oppure i miei, i miei, i miei, i miei, i miei o tuoi diretti dove sei, per la mia stessa, e per la mia stessa. quello che c'è rispetto al botto e lo metto nel posto qui sopra la manita, il cesco, la manita mi raccomando il video quello che ho messo il 29 gennaio andatelo a vedere mi raccomando sembra che è finito in social perchè già l'ho posata e niente ora finisco di giocare con questo un po' aperto e niente più l'ho forte e più mi piace questo questo e qua e qua è l'ultima questi c'è il botto ce l'ho fatto vedere nel book scusso però questo è Spiders oggi vediamo o più tardi vediamo ora riesco a giocare a sapere o più tardi se ho vinto del primo livello l'ho vinto perchè l'ho fatto vedere su Instagram andate a seguirmi anche su Instagram e niente ci riaggiorniamo più tardi o domani eccomi qui scusatemi non vi ho fatto nemmeno vedere il pranzo di oggi e niente scusatemi sono qui con l'iPad devo fare un attimo un video haul di make up scusate per i capelli ma devo fare lo shampoo assolutamente e niente se riesco a farvi vedere la cena di stasera ve la faccio vedere comunque come promesso avevo fatto le unghie e vi faccio vedere non si ne ne vedo non si ne vedo ecco questo è un'unica unghie e 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 unghie eccomi qui perché ho fatto il 29 e il 30 e il 31 e il primo febbraio facciamo insomma quattro giorni inizie vediamo se riuscirò oppure vediamo un po' a tre poco vado a fare il video il make up eccomi qui allora scusatemi come avete visto vi ho detto che andavo a fare il video con il make up l'ho registrato ora sono qui nel letto già mi sono messa qui già ho messo il pigiama infatti è quello che è con le spalline appoggiato al cuscino e niente vi ho fatto vedere il piatto che ho mangiato stasera il pollo con l'insalata vi faccio vedere anche quello di domani spero che riuscirò a farvi vedere la colazione qualcosa domani e niente mi sono messa nel letto non perchè voglio riposare quant'altro si diciamo sono che si chiudono gli occhi già da quest'ora però infatti ci sono a volte che mi metto a dormire anche le due o le tre da notte perchè io cosa faccio gioco sul telefono guardo insomma guardo i video gioco con piramide gioco con petteresque saga non so se conoscevi questi oppure blastom solitario grand harvest vado a giocare lì ma fra poco monto anche il video haul make up che vorrei mettere o stasera o domani ora vediamo ma questo è un vlog già quando vedete questo vlog già il video haul già c'è quindi in questi giorni dovrebbero arrivare anche due pacchi di bulk che ho ordinato e anche l'avan due pacchi di avan dovrebbero arrivare da qua sono rossa perchè ho mezzo caldo e mezzo freddo perchè in voce la mia già la stufa a pelle che fa caldo ma sono tutta tutta rossa infatti infatti in faccia sono tutta tutta rossa e quindi e quindi comunque sto dicendo sono tutta rossa qui in faccia niente ora fra poco mentre giocavo a toccarellare mi riposo un po' dopo il gioco dopo il gioco e niente comunque in questi giorni dovrei fare anche l'olio di avon e di bulk perchè dovrebbero arrivare questi pacchi che ho ordinato da bulk per la prima volta non so nemmeno come siano queste cose e niente ora ho metto un po' a riposare metto un po' così si chiudono gli occhi ovviamente ehm ci sentiamo più là dopo che è tardi buongiorno buongiorno a tutti allora ehm oggi è il primo febbraio ehm il continuo del vlog e niente ehm non vi ho fatto vedere la colazione stamattina hm vi faccio vedere il pranzo di fra poco che farò oggi come la settimana scorsa che già avrete visto comunque vi voglio far vedere una cosa che mi è arrivata che vi avevo promesso comunque questa cosa già la troverete la troverete online prima del vlog perchè il vlog andrà online vabbè io vi faccio vedere ecco cosa mi è arrivato come vi avevo promesso mi è arrivato bulk come promesso vi faccio l'unboxing di bulk infatti troverete prima l'unboxing di bulk e poi questo vlog poi online per lo farò più tardi questo qui bulk l'unboxing ci sono delle cose davvero bellissime comunque sì sono sul letto come si può vedere perchè sono qui nella mia stanzetta nella mia cameretta e fra poco vi farò dopo mangiato farò unboxing o più tardi stasera vediamo non so comunque quale delle unghiette che mi sono fatte vedete aspettate ecco posso vedere i piedi c'è ecco posso vedere il stivale e niente e farò mi farò l'unboxing ci sono delle cose indesiziose poi fra poco mi preparerò anche i due pacchi di amoni infatti anche quello fra l'unboxing non so se oggi o domani comunque vedrete prima quello e poi il vlog e niente non so che dire comunque fra poco vi farò vedere il mio piatto di pranzo e poi quello anche di stasera fino a oggi farò fino a oggi martedì perché il vlog è iniziato da sabato 29 fino a oggi primo quindi sabato domenica lunedì martedì quindi il 29 il 30 il 31 il primo mi ha messo i capelli oggi sono uscito a prendere questi due pacchi e c'era un vento infatti quando non c'è un vento mi fa paura devo andare a fare anche la guida sono le 5 e vediamo come andrà oggi poi dovrei andare dal medico dopo dopo ho fatto la guida dovevo far vedere le analisi che ho fatto settimana scorsa e vediamo un po' un dopo aspettatela sconcio infatti dopo ho mangiato mettere un po' giocare su un ipad guardare qualche video e niente lo farò a dopo eccomi qui ho finito di mangiare come avete visto il mio piatto di oggi allora come avevo permesso mi è arrivato anche questo qua con questi due pacchetti questi due pacchetti di oven come potete vedere mi è arrivato verso metodo alle 10 sarà stato quindi ho poi anche anche mi è arrivato quindi penso che comunque farò il unboxing più tardi ora mi riposo guardo dei video metto nel letto si ti metto nel letto mi auguro qualche video sul mio ip c'è il mio ipad sulla mia parte e poi dopo insomma vediamo cosa fare perché è più tardi comunque devo andare alla scuola qui perciò non ho fatto un unboxing quindi vediamo un pochettino secondo me questo vlog diventerà molto molto lungo non so forse più di 20 minuti che sarà e non lo so e vediamo dovrò sapere comunque mi sono vista grande fratello ieri sera non vi è piaciuto per niente quindi stasera non mi guarderò nemmeno Sanremo perché non piace infatti stasera non mi piace i canati che ci sono non so quando guarderò Sanremo poi mi farò sapere comunque poi vi farò sapere e vi agenzierò qualche prodotto di busca quando puoi più o meno se c'è un buono però perché è comunque la prima volta che prendo poi vediamo qui là vi agenzisco se c'è qualche codice sconto non lo so non so niente niente ma questi capelli sono oscene guardate qua dopo che devo fare sto sciambo e quindi vedete più in lavori ritentisco l'urcamo all'agua non mi deciderò perché non sono miei clienti a volte prendo io non sempre e niente ci vediamo più tardi e sconciamento proprio sconciamento e niente ci vediamo più tardi eccomi qui buonasera sono andata a fare la quina oggi pomeriggio è andata che non ne parliamo proprio infatti farò altre cinque guide per poi sostenere l'esame se ci riusciamo scocate per questi capelli ma vabbè si alzano dovevo fare lo shampoo e niente e non vi ho fatto vedere la mia cina di stasera infatti neanche su instagram l'ho fatta vedere ma purtroppo ho avuto da fare infatti ora devo registrare il video unboxing di pulk che ho mi è arrivato oggi anche quello di di avance e niente noi ci vediamo al prossimo video e spero che vi sia piaciuto questa tempora di video griglia di video ff 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 ff